Sangue sulle strade, incidenti mortali a Montecchio Maggiore e a Cittadella. E' stato ritrovato morto l'escursionista di Schio disperso e l'ha precipitato per 150 metri. Ario Gervasuti è il mandante dell'agguato, il giornalista mai avuto sospetti su Alberto Filippi. Il primo caso di West Nile 2023 contro le zanzare, l'Ul Sotto raccomanda l'uso di repellenti. Ultimi preparativi per Ferragosto, i vicentini rimasti a casa festeggeranno con gli amici. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con TG Vicenza, il telegiornale che vi propone l'informazione di Vicenza e provincia. Questa sera apriamo tornando a parlare di incidenti stradali mortali. Notte di sangue sulle strade del Padovano, intorno a Luna, lungo la Postumi e due auto si sono scontrate frontalmente. Il bilancio è di un morto e un ferito. Un tragico frontale sul rettilineo che attraversa la provincia di Treviso per arrivare a Cittadella. Ancora un incidente mortale lungo la Postumi e la Statale 53. Questa notte due auto, una Mercedes, una Ford Fiesta si sono scontrate. L'impatto, forse a causa della velocità, è stato tremendo. Prima lo scontro, la Mercedes Carambola e la Fiesta che finisce nel fossato, accanto in abissata per 50 centimetri. I primi a trovare le due auto sono gli operatori del 118 di un'ambulanza della Croce Rossa che era di passaggio. Allertati, i vigili del fuoco sono arrivati da Cittadella e Padova con l'autogru. Hanno estratto il conducente della Mercedes che è stato preso in cura e stabilizzato per essere trasferito in ospedale. Mentre il conducente della Ford, finita in acqua, era già deceduto. I sanitari hanno solo potuto constatarne il decesso. A perdere la vita un giovane di soli 31 anni, un sergente americano di stanza alla caserma Ederle di Vicenza. L'automobilista ferito non è in gravi condizioni, è un uomo di 47 anni di cittadella. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Sul posto c'erano i carabinieri di Padova. Ed è morta nella notte una ciclista di 68 anni a Montecchio Maggiore. Montecchio Maggiore. Si chiamava Maria Teresa Albiero, la donna che in sella la sua bicicletta è stata investita da un'auto ed è morta nella notte a causa delle gravi ferite riportate. L'impatto è accaduto ieri sera verso le 21.30 nei pressi della rotatoria del polisportivo tra via Zanato e via Trozzi. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente, eseguite dai carabinieri di Valdagno intervenuti per i rilievi, un'auto condotta da un uomo di 30 anni avrebbe tamponato la ciclista in prossimità di uno degli svincoli della rotatoria. Immediato l'arrivo dai sanitari del SUEM. I medici, resisi subito conto della gravità della situazione, hanno stabilizzato il corpo della donna e l'hanno trasportata in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove poi è deceduta. Il conducente dell'auto è stato arrestato per omicidio stradale, su di lui sono in corso accertamenti sullo stato psicofisico con cui si era messa la guida. Attualmente si trova agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ancora cronaca in primo piano è stato ritrovato dai soccorritori la notte scorsa il corpo dell'escursionista di Schio che era disperso. Posina, è morto Paolino Camparmò, l'escursionista 68enne di Schio che sabato sera non era tornato a casa da una passeggiata solitaria sul brutto buso in località Griso. La moglie, non vedendo rientrare l'uomo verso le 21, ha lanciato l'allarme. I carabinieri avevano effettivamente trovato subito l'auto dell'escursionista parcheggiata nei pressi della cima, ma del 68enne nessuna traccia. 14 uomini del soccorso alpino di Arsiero, suddivisi in diverse squadre, hanno cercato tutta la notte lo scledense, risalendo i diversi sentieri fino a ritrovarne il corpo senza vita. La salma è stata fatta calare in Bragata in Barella per 200 metri, una zona impervia e pericolosa dove spostarsi è particolarmente difficile. Non è ancora chiarita la dinamica dell'incidente. L'uomo è precipitato sulla scarpata rotolando per 150 metri. potrebbe aver perso l'equilibrio o essere stato vittima di un malore. E il giornalista Ario Gervasutti commenta l'esito delle indagini della direzione distrettuale antimafia che ha identificato nell'ex senatore Alberto Filippi il mandante dell'agguato contro la sua famiglia. Datato 16 luglio 2018, quella notte furono esplosi 5 colpi d'arma da fuoco contro la sua abitazione. Sono basito rispetto al fatto che il mandante sarebbe un imprenditore, un imprenditore peraltro di successo, cioè non un disperato con l'azienda sotto scacco della criminalità organizzata. Il 16 luglio 2018 la casa del giornalista, oggi caporedattore del Gazzettino, fu bersagliata con 5 colpi di pistola. I proiettili finirono nella stanza del figlio, allora ventenne. Non fu un tentativo di rapina. Oggi, a distanza di 5 anni dall'accaduto, quella guato avrebbe un mandante, l'ex senatore della Lega, il vicentino Alberto Filippi. Lui lamentava che il giornale non dava sufficiente spazio alla sua versione dei fatti rispetto a una polemica locale, un contenzioso sul cambio di destinazione d'uso di un terreno di sua proprietà su cui doveva sorgere, non ricordo bene se un centro direzionale, un centro commerciale. Gervasutti allora al giornale di Vicenza fece pubblicare un secondo articolo con la versione dell'ex senatore. eppure mai ebbe il minimo sospetto che i due episodi potessero essere collegati. Avrò parlato con lui 3-4 volte, avrò telefonato a me altrettante, ma stiamo parlando del 2010. Poi dalla fine del 2010 più o meno non l'ho mai visto né sentito. L'avviso di conclusione delle indagini a Gervasutti è arrivato il 23 di giugno quando la direzione distrittuale antimafia ha comunicato i nomi dei 43 indegati nell'inchiesta sulle infiltrazioni in Veneto dell'Andrangheta calabrese. In quel file c'era il nome di Filippi collegato proprio ai fatti del 16 luglio di 5 anni fa. Un imprenditore di successo, un ex parlamentare, una persona laureata, un Veneto che entra in contatto e che coabita con una cosca dell'Andrangheta, francamente è qualcosa di inimmaginabile. Ancora più inimmaginabile rispetto alle motivazioni che starebbero dietro a questa azione. E sulle presunte intimidazioni ordinate da Alberto Filippi abbiamo sentito telefonicamente l'opinione di Giampaolo Gobbo, l'ex segretario nazionale della Lega. Se è vero perché bisogna verificare, ripeto, tutto ciò che c'è in un'inchiesta, bisogna anche poi che passi in giudizio e quindi che ci sia la realtà dei fatti consolidata. Ma da questo, se è vero questo, certamente avere contatti con la criminalità organizzata e addirittura cercare di disintimizzazione di un direttore, di un giornalista, di una persona che stimo da sempre. Lo sconcerto dell'ex segretario nazionale della Lega sulla pesantissima accusa all'ex senatore Alberto Filippi del suo presunto coinvolgimento come mandante all'attentato dell'abitazione del giornalista Ario Gervasutti. Il riservo è massimo in mancanza di documenti e prove certificate e acclarate. Il ricordo di Gobbo del collega è positivo all'inizio della sua militanza nello stesso partito. La persona, quello che ricordo, a quei tempi non c'erano problemi. Poi invece sono cominciati i problemi perché lui come imprenditore, come altro eccetera, aveva praticamente delle situazioni particolari nel Vicentino. Il contrasto aveva comportato ad un richiamo ufficiale degli organi interni di vigilanza della segreteria regionale. La reazione inaspettata del senatore Vicentino aveva inasprito le tensioni che hanno portato la sua espulsione dal partito. Forse per difendersi, forse per cercare di salvare la sua situazione eccetera ci dice che aveva praticamente in mano determinate situazioni che possiamo chiamare dossier di vari membri della Lega. al che ciò ci è sembrato un ricatto e su questo, quei principi che avevamo, non è stato stato preso bene. Infatti si è chiesta un'idea di alta espulsione che è stata fatta dal federale essendo allora un membro del senato. L'uso di adeguati repellenti quando si sta all'aria aperta scegliere magari soprattutto per le attività di giardinaggio delle ore adeguate magari non proprio il tramonto in cui è quello in cui la zanzara tradizionale viene fuori e usare adeguate coperture, cioè adeguati abiti per proteggersi dalle punture di zanzara. Sono le raccomandazioni basilari per difendersi dagli insetti che in questa stagione minacciano la salute soprattutto delle persone più fragili. La Regione Veneto ha promosso una campagna informativa di prevenzione. Verso animali che possono portare, trasmettere delle malattie cosiddette zoonosi in particolare zanzare e zecche. Abbiamo avuto un 2022 appunto con molte notifiche da West Nike è stata una malattia con encefalite che ha dimostrato appunto il suo grado di pericolosità ma non dimentichiamoci anche che cosa possono portare le punture delle nostre zecche che incontriamo nelle comuni passeggiati in montagna. L'Usberica collabora con tutti i 59 comuni di sua competenza. da aprile ha avviato il coordinamento del piano di monitoraggio di disinfestazione. A Vicenza sono stati appena distribuiti prodotti larvicidi e volantini informativi nei luoghi pubblici. Anche se quest'anno i numeri sembrano ridotti resta alta la vigilanza sulla diffusione delle malattie pericolose come il virus dengue. È un po' scontato dirlo ma è appunto il tema anche di questi giorni riguardante un po' il cambiamento climatico. Quindi sicuramente ogni anno noi troviamo un maggiore impatto di insetti, di zanzare, di mosche, di zecche anche magari alle attitudini a cui non ce li aspettiamo e in una stagione più ampia il che permette anche più cicli riproduttivi di questi insetti. Vigilia di Ferragosto, che cosa faranno domani i vicentini? Io l'abbiamo chiesto. Ferragosto praticamente siamo a casa. La moglie è mia? Non ce l'ho io la moglie e neanche ci tengo a averla. Perciò a casa, Ferragosto a casa, sempre a casa. Siamo qui per due giorni, tre giorni e abbiamo scelto questa città perché alcuni di noi non la conoscevano e ci piace così. A Ferragosto siamo in realtà a casa perché per noi Ferragosto è famiglia, un po' come il Natale e poi partiremo la settimana dopo per andare a Rimini al meeting. Il 15 agosto no, tutta la Spagna è chiusa per vacanze. Voi dove sarete? Siamo qui e dopo dormiamo in Bassano del Grappa. Personalmente sarò a casa a prendermi cura della mia mamma che ha 97 anni e spero che anche altre persone possano vivere pur nelle ferie e prestare attenzione alle persone che hanno bisogno. Anch'io dedicherò il mio tempo alla famiglia, ai nipoti, ai fratelli e saremo in montagna, al fresco forse, o sotto la pioggia, non lo so, col maglione e faremo un bel pranzo insieme ma prima andremo a celebrare in chiesa. Io sono abbastanza anziano quindi non ho pretese. La grigliata, la mangiare fuori. Ma sì, le solite cose ma senza strafare. Poi anche il discorso del tempo, vede anche lei, è ballerino, no? Quindi non è che si possa organizzare in 4-4-8. Ciao a casa, ciao a casa perché le vacanze le ho già fatte. Ma io penso che quest'anno lo passerò in famiglia, con le mie figlie, con mia moglie e staremo nella nostra casa, che è una casa in campagna, che abbiamo in Toscana. Io di solito lo faccio a casa e anche quest'anno lo passo a casa. Anche perché avrò la fortuna di diventare nonno tra poco, quindi mi goderò la mia nipotina. La cara mia va bene con lì come la domenica ormai, anche se fa l'agosto una festa grossa, come Natale, Capodanno, la Pasqua. Ma speriamo, intanto che ci sia un bel tempo, se il tempo lo concedete, magari andare ad Asiago, fare un giretto e speriamo che passeremo una buona giornata in famiglia. Beh, allora, Ferragosto io tengo aperto il locale per i turisti che saranno in città. Tanti sicuramente vicentini andranno a fare le famose grigliate, i gavettoni d'acqua, visto che le temperature, a quanto pare, saranno molto calienti. Ecco, questo sarà un Ferragosto, speriamo, bello ricco per il centro storico, per chi viene a visitare la nostra città. Si chiude qui questa edizione di TG Vicenza. Prima dei saluti, vi ricordo l'appuntamento con la programmazione serale su Rete Veneta. Questa sera andrà in onda, in prima serata, il film La Grande Sfida, un film western del 1956. È davvero tutto, vi ringrazio, come sempre, per aver scelto la nostra informazione. E buona serata.